Un vero e proprio funerale con tanto di carro, bara, fiori, prete e manifesti funebri. E' la singolare protesta messa in scena dal Movimento Vite e dal suo presidente Nando Amoruso davanti all'aeroporto di Crotone. Questa mobilitazione è stata organizzata per evidenziare lo stato d'abbandono in cui si trova il territorio crotonese in fin di vita, a partire dallo scalo aeroportuale di Sant'Anna. Sono circa 12-13 anni di incatenamento, non si contano gli incatenamenti per questo territorio, perché in confronto ad altri territori deve essere un territorio così emarginato. Io non riesco a capire e lo vorrei sapere, il motivo perché questo territorio dal punto di vista infrastrutturale deve essere isolato. Ma io sarei capace anche di andare in galera per questo territorio. Io ho sempre detto che l'aeroporto, per me se lo sono venduto alla Sibarite, piano piano, e lo posso dimostrare, l'ho sempre detto. Qui per le infrastrutture non ci deve essere nessun io, siamo noi, siamo noi. Intanto per la giornata di sabato è prevista un'altra manifestazione per lo scalo di Sant'Anna organizzata dal Comitato Cittadino Aeroporto Crotone in Piazza della Resistenza. Giuseppe Laratta per la Cineus 24. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.